Signor Mattina, siamo punto a capo per la situazione in casa? Abbiamo 30 anni che abitiamo qui in questa casa popolare, purtroppo, e siamo sempre a un punto. Allora, quello che volevo dire io, l'amministrazione comunale di Partenico, il sindaco Servolo Biondo, che fa il sindaco veramente, cioè si prende la sua responsabilità per i partenicesi, affinché fa mettere all'ICP il portone qua a queste case popolari, perché entrano cani, entrano persone strane, ci rubano come hanno rubato qua a terzo piano, fanno tutto quello che vogliono. Noi siamo peggio delle stra-comunitarie. Allora, io gentilmente la prego il signor sindaco di Partenico, a Servolo Biondo, tutta giunta comunale, o di destra, o di sinistra, o di centro, che si prendono la loro responsabilità e provvedono immediatamente per fare mettere questo portone qua, nella via Giuseppe Ungaretti, perché noi non ce la facciamo più. Io invito a questo signore che sta avvassando ora, che l'hanno rubato, a motivo perché non c'era il portone, era il signor, ti chiami? Signor Perre. Il signor Perre ci hanno rubato la casa, ci hanno rubato tutto, offrino l'antenna del solaio, perché è una vergogna, ancora nel XX secolo, anzi nel XXI secolo, che ancora si vedono queste cose. Cioè le stra-comunitarie abitano in casa in 5 stelle, in abberghi in 5 stelle. E noi purtroppo abitiamo nella via Giuseppe Ungaretti, ma quale zenne? Se andiamo nello zenne a Palermo, si sta meglio di qua. Cioè è una vergogna, io perché non vedo il sindaco da Partenico di quando ci sono state votazioni. E non l'ho visto più. Ora, Salvolo Biondo, Giovanni Pantaleo e tutti quelli della giunta comunale, si prendono la loro responsabilità, perché senza quei papati partenicesi e di andare a vedere, toccare con le sue mani, vedere con gli occhi, che questa vergogna deve finire. Noi siamo stanchi e non ce la facciamo più. Non solo i casi popolari, lui cerca bollette d'acqua, lui cerca spazzatura. Ma dove è il lavoro? Perché non provvede come fanno in Germania, quando le persone sono disoccupate, ci danno 300 euro a famiglia solo per mangiare. Più gli pagano la casa, più gli pagano la luce, più ci comprano pure la televisione. Dico, è una vergogna. Noi non vogliamo queste cose. Noi vogliamo quello che ci spetta. I nostri diritti, e prego consiglio a una cosa sbagliata, vogliamo i nostri diritti. Che il sindaco di Partenico faccia il padre di partenicesi. Gentilmente, signor sindaco, Salvolo Biondo, io lo stimo come persona, perché è una brava persona, però come sindaco non fa niente. Io lo dico francamente, qua, nella tribura della Taliato. La prego, con Giovanni Pantaleo e compagnia, si prende la responsabilità. A pian terreno, ci sono i casi pieni di umidità. Pieni di umidità. Poi a terzo piano, ci piove, a terzo piano ci piove, ripeto, come fossimo fuori, a cielo aperto, fuori, che l'acqua dal terzo piano arriva fino al primo piano. Se lei vuole mandare un tecnico e constatare, e vedere, e controllare, fare un sopralluoco, e vedere la situazione è questa, lo faccia. Da quello che sto dicendo ora a lei, è la pura verità. Sono parole sicuramente dettate dalla stanchezza di una situazione del genere, dalla frustrazione di non vedere le cose che cambiano. Ovviamente magari l'amministrazione potrebbe regalarvi un portone, però la competenza non è del comune direttamente, ma è di un ente regionale, l'ACP. Sì, è vero, però intanto l'affronta il sindaco, queste benedette sordi, per il portone ci vanno 1000 euro, penso, e poi si fa dare dell'istituto, perché lui ha il potere di farlo, ma noi come cittadini non lo possiamo fare. Noi abbiamo il sindaco, il nostro papà, perché è il papà di tutti i partenicesi, che si prende la sua responsabilità. La prego gentilmente, signor sindaco, io la stimo come persona, però, per cortesia, mi faccia mettere questo penetto portone, perché non solo ci piove, il portone non c'è, entrano latri, ma anche la melma delle cani randaggi che ci sono pure fuori. Dico, va, scherziamo, signor sindaco, facciamo le cose serie. Siamo umani, ci scattiamo il giorno della civetta o qualcosa qua. Siamo persone, che cosa siamo? Siamo essere umani o no? Si prende la sua responsabilità, signor sindaco, la prego. Grazie. Francesco Perri, un abitante delle case popolari che abbiamo appena filmato, ha avuto un gravissimo problema a causa della mancanza del portone, gli sono entrati dei ladri in casa che gli hanno rubato porte, ante, mobili, qualsiasi cosa potessero rubare. In questa situazione ha anche la casa che abbastanza cade a pezzi, il soffitto e tutto quanto. Io vorrei, diciamo, fare un appello all'istituzione, all'istituto, di variate promesse fatte, mai mantenute, di intervenire al più presto, così almeno ci sistemiamo un poco. Ma non ci credo tanto, diciamo, perché hanno sempre promesso e mai mantenuto queste promesse. Lei chiede al sindaco, anche perché l'ente che si dovrebbe occupare di tutto questo, come fa a interpellarlo, giustamente? Io chiedo al sindaco, e chi mi mette buon rivolto? All'istituto ci siamo andati varie volte con dei gruppi qua, residenti, dal sindaco accettando, cosa dobbiamo fare? Io a questo punto non so cosa fare, diciamo, o dire. Casa sua è piena di infiltrazioni che vengono appunto dal terrazzo? Sì, dal tetto c'è una infiltrazioni. Ultimamente, un paio di settimane fa, quando è piovuto abbondante, pioveva a cielo aperto. Ho passato delle notti a raccogliere acqua, a sciuotare secchi e tutto quanto. È una situazione decisamente in cui non si può vivere. Lei infatti non vive più in casa sua. No, io ci vengo soltanto per dormire. Mio figlio in questi giorni ha preso la bronchite. Attualmente si sta curando, ma mia moglie è sofferente. Non può, diciamo, dormire qua in questa situazione piena di umido. Diciamo che possono portare altre malattie. Quindi è ora che qualcuno intervenga per farvi vivere una vita dignitosa? Speriamo che intervengano, sia il sindaco oppure l'istituto, che facciano qualcosa di definitivo, sempre promesse, promesse che poi non si è mai visto nessuno. Nessuno.